Postazioni già installate, le bici ancora no, ma dovrebbe mancare davvero poco. La campagna abbonamenti è appena partita, ma ancora non è possibile registrarsi online. Insomma, una partenza a Singhiozzi, quella del bike sharing di Palermo, è ancora troppi i forse sulla questione. Il primo arriva dall'assessore alla mobilità, Giusto Catania, che non dà ancora certezze sull'avvio materiale del servizio inaugurato domenica scorsa. Un altro forse invece arriva dall'AMAT, dove i responsabili spiegano che sì, la campagna abbonamenti è già attiva, ma bisogna recarsi fisicamente alla sede di Via Giusti per potersi registrare, almeno in questa prima fase poi dovrebbe essere possibile registrarsi online. Problemi forse con le piattaforme informatiche ancora non disponibili e dunque, nonostante l'inaugurazione delle postazioni della campagna abbonamenti, il servizio bike sharing è fermo. Un servizio di mobilità urbana utilissimo, ma ancora al palo, lo stesso palo dove i cittadini vorrebbero vedere posizionate le bici, così da poterle finalmente utilizzare.